San Vito di Marostica per Minifest di Opera Estate. Domani mercoledì 3 luglio alle 21.15 va in scena Storie in Cattedra, uno spettacolo di Barabao Teatro. Il racconto sarà interattivo, coinvolge ragazzi da passivi uditori ed attivi redattori. I quattro attori cercheranno di trasmettere non solo concetti ma soprattutto stimolare il desiderio di conoscenza, richiamando il linguaggio cinematografico e quello usato dalle nuove generazioni. L'obiettivo è proprio catturare l'attenzione in modo accattivante per predisporre l'amore e per la ricerca.